Ok, dunque, ecco come non si pianifica una carriera. Uno, perdere la tua ragazza. È stata una pessima idea. Due, mollare gli studi. Mi ero lasciata trasportare troppo. Tre, andare a lavorare in un negozio di dischi. Quattro, diventare proprietari del suddetto negozio. Buongiorno, Rob! E cinque. Non esiste un cinque. Prossima traccia. Che cos'ho che non va? Perché tutti mi lasciano? Perché sono destinata al rifiuto? Kat! Proviamoci di nuovo! Seriamente? Quindi glielo chiederò? Questa è la mia classifica personale delle cinque più grandi fregature di tutti i tempi. Ehi, tu. Rob. Ciao, Rob. Rob. Sorpresa. Vuoi intraprendere un viaggio spirituale e ripercorrere il tuo passato per risolvere delle grane? Sì. È una ficata. Dovrei odiare certa gente. E credo di farlo. Devi smetterla. Prima di arrivare a quello che ti ha spezzato il cuore. E così finì la nostra storia. In Grace Anatomy, Rob Lowe era in lizza per interpretare il dottor Derek Shefford, però alla fine ha rifiutato per recitare nella serie tv Dr. Vegas. E la parte andò, come sappiamo, a Patrick Dempsey. L'attore ha detto di essersi pentito amaramente. Qual è il vostro personaggio preferito? Fatemi sapere qui sotto, nei commenti. E io vi ricordo, come sempre, che potete seguirci anche su TikTok. Trovate il link in info box e io vi aspetto al prossimo video. Ciao da Valeria.